E' il gol numero 54, Salvatore Mastro Nunzio raggiunge Torti nella classifica dei Bomber di tutti i tempi, adesso la Vipera è seconda e punta dritto a Fiorini, autore di ben 71 reti. Un gol solo contro il Gallipoli, in più però c'è un assist per Surraco e il senso generale di pericolosità, sempre più simbolo di quest'Ancona che vince 3-1 e sforna la prestazione con la P maiuscola, guarda caso, su un campo in condizioni ottimali, asciutto e adatto alle caratteristiche dei biancorossi. La formazione di Giannini parte bene e chiude l'Ancona nella sua metà campo, non crea grossi pericoli ma chiude ogni spazio, la svolta è al 26esimo, 1-2 schiattarella Colacone, il giolli di Mugnano, impatta il pallone spedendolo prima sul palo e poi in rete. Il vantaggio sblocca i dorici, al 32esimo azione confusa, ci prova Zavagno, poi Catinale, infine Surraco ma la difesa del Gallipoli, si difende come può, due minuti dopo è la volta di Mastro Nunzio ma il suo diagonale è largo di un nulla. Al 37esimo Colacone prova a superare Sciarrone ma il portiere ospite ci mette una pezza. Al 42esimo i Salentini rimangono in dieci per l'espulsione di Lazzari che, già monito, applaude ironicamente il signor Nasca e guadagna così anzitempo gli spogliatoi. La partita è in discesa, nella ripresa pronti via ed ecco il sigillo del capitano in contropiede su passaggio di schiattarella. Al 7imo Nuovo Rosso, stavolta fiscale, ai danni di Tagliani che stende Mastro Nunzio. Al 14esimo la Vipera lavora un pallone in aria e lo porge a Colacone per farlo segnare, Surraco lo anticipa e il tapin è il suo. La gara finisce qui, l'Ancona controlla il possesso palla senza inferire ingenerosamente su un avversario in difficoltà. Alla mezz'ora Daino scalda i guantoni ad Acosta che poi si supera dicendo di no al colpo di testa ravvicinato di Artistico. Un giro di lancetta e Daino stende Surraco, brutto fallo ma l'espulsione diretta è oggettivamente eccessiva. In 8 la formazione di Giannini ha un moto di orgoglio e trova il gol della bandiera con calibrato calcio di punizione di Artistico. Il resto è solo Accademia prima del triplice fischio finale. La brutta notizia però è il ricorso della Procura federale che chiede che l'Ancona venga penalizzata di un altro punto. L'avvocato Malagnini si prepari che per lui c'è ancora da fare ma questa è un'altra partita.